Nell'alta Valtiberina Toscana, esattamente nella periferia di Sansepolcro, in località Trebbio, è in corso da alcuni anni un progetto di ricerca sull'archeologia preromana. Il cantiere quest'anno è stato aperto lo scorso 9 luglio. La campagna di scavi vere e proprie è cominciata il successivo 13 luglio e proseguirà fino all'8 agosto. I ritrovamenti di Trebbio rivestono un'enorme importanza scientifica, sia nell'ottica locale che in quella nazionale. Si tratta infatti di un centro abitato molto vasto di almeno 20-25 ettari, formatosi almeno dall'VIII secolo a.C. e perdurato fino al VI secolo a.C. sulla sponda orientale del Tevere, che oltre a essere una fondamentale via di transito per gli scambi, era anche un confine cruciale tra le comunità etrusche, come è noto occupanti il territorio a ovest, il fiume e quelle italiche. A quest'ultime, anche per caratteri culturali dei manufatti finora scoperti, è attribuibile probabilmente questo insediamento, che sarebbe dunque uno dei più vasti antichi centri abitati dei popoli italici. La collocazione a ridosso del Tevere fa pensare che per l'abitato del Trebbio avessero notevole importanza le attività di produzione e scambio, ipotesi avvalorata da notevoli resti di attività di produzione della ceramica su larga scala. Questo aspetto riveste tra l'altro un notevole rilievo generale per la riflessione storica, in quanto contribuisce a evidenziare l'incidenza del fattore commerciale per la nascita dei primi centri urbani. Il progetto di ricerca è diretto dalla professoressa Adriana Moroni, dell'Unità di ricerca di ecologia preistorica del Dipartimento di Scienze Ambientali Sarfatti dell'Università di Siena, di concerto con la sovrintendenza per i beni archeologici della Toscana, in stretta sinergia con il Centro Studi sul Quaternario di Sansepolcro, che lavora in convenzione scientifica con l'Università e partecipa al finanziamento degli scavi. Associano il Consiglio Direttivo rappresentanti del gruppo ricerche archeologiche di Sansepolcro, del Comune e appunto del Dipartimento di Scienze Ambientali. L'attività svolta ormai da 30 anni ha portato la scoperta e alla successiva indagine di una notevole quantità di siti archeologici, compresi in un arco cronologico che va dalla preistoria più antica, il Paleolitico Inferiore, certo 30-100 mila anni fa, all'epoca medievale. Le indagini nel sito di Trebbio hanno avuto inizio a partire dagli anni 90, ma solo nell'estate del 2000 si è dato l'avvio a vere e proprie campagne di scavo stratigrafico. La ricerca riguarda il periodo compreso tra la fine del IX e il VI secolo a.C., l'età del ferro. Si tratta di un momento cruciale nella storia delle comunità, poiché in questo arco di tempo che in Italia centrale si assiste alla formazione dei primi centri protourbani. Dal 2007 la professoressa Morone è convolto nelle indagini del sito di Trebbio il professor Marco Paciarelli, docente di preistoria e protostoria presso l'Università Federico II di Napoli, che si è occupato a lungo di problemi connessi con la formazione delle prime città in Italia. Si avvale anche di importanti collaborazioni nel campo delle scienze geologiche e naturali, tra cui quella del professor Marco Benvenuti dell'Università di Firenze, che sta ricostruendo con un approccio all'avanguardia il lungo processo di formazione dell'attuale paesaggio.